oh salve il popolo di youtube bentornati su shion io sono neog82 e ho fatto questo video solamente per non lasciarvi all'asciutto visto dico che semplicemente sto preparando un paio di video che spero voi trovate molto interessanti e poi volevo dirvi due cose innanzitutto abbiamo una nuova mascotte per il canale signori e signori e un graditissimo ritorno a tutti pantagruel il pinguino che è un po un po sciupato magari se facciamo così è più carino no diciamo che troviamo una nuova mascotte a ecco signori e signori vi presento ecco the dolphin vi ricorda qualcuno benissimo adesso abbiamo la nuova mascotte così magari qualcuno può intenerirsi magari magari ci guarda con più volentieri se non vi piace la mascotte possiamo anche fare a meno di usarla però vabbè in ogni caso il secondo annuncio che vi do è che se voi avete delle idee delle proposte qualsiasi cosa mandatemele dite commentate fate anche anche probabilmente delle critiche io accetto tutte le critiche basta che siano costruttive ma sicuramente mi piacerebbe tantissimo anche se abbiate delle proposte da fare tipo non so recensione di qualche vecchio gioco una piccola retrospettiva non troppo grande un qualche altro gioco indie da segnalarmi che sarebbe carino far conoscere o comunque di cui fare una recensione critica non critica quello che dice quello che volete anche proposte magari di un'altra cosa tipo io facevo le recensioni di scatole poi ho visto che non avevano molto successo quindi il super adesso interrotto ma se vi piacciono le posso fare quello che volete voi datemi qualche idea se vi piace se vi va e io tenterò anche di accontentarvi per quello che per lo che si può lasciamo stare i giochi mainstream quelli grossi non so color di uti batter qui lasciamoli tanto c'è tanta altra gente che ci parla non c'è bisogno che ci parli guardiamo più le cose un pochettino più piccole magari un pochettino più interessanti è però comunque vi ringrazio sempre dell'attenzione e ci sentiamo presto grazie